Buon pomeriggio, 4 ottobre, giovedì 13.50. Ben ritrovati con Infostudio. Mai preso soldi da alcuno. È una linea difensiva improntata nello stesso solco dell'idea che lo ha poi ispirato nel proporre il modello Riace, quella del sindaco Mimo Lucano che oggi è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Domenico Di Croce nell'ambito dell'inchiesta che ha portato al suo arresto martedì scorso, inchiesta della procura di Locri sulle attività del comune, in particolare sulla gestione dei rifiuti e sulla gestione dei fondi destinati ai progetti dell'immigrazione. Io non ho mai guadagnato né preso soldi da alcuno, avrebbe detto Lucano al GIP. A chi voleva darmeri ho sempre detto di devolverli in beneficenza. A Riace, ha aggiunto Lucano, sono stati usati soldi pubblici solo per progetti relativi ai migranti e per alleviare sofferenze, opportunità di lavoro e integrazione o dare una vita migliore a perseguitati o richiedenti asilo. L'interrogatorio del sindaco di Riace si è protratto per circa quattro ore. Prima avete visto le immagini del suo arrivo nella piazzale di fronte al Palazzo di Giustizia di Locri. Si è brevemente intrattenuto con i giornalisti. Lucano scambiando qualche frase, poi è stato portato via per un braccio dal suo avvocato. Non ho nulla da nascondere. Tutto quello che so, lo dico, aveva detto questa mattina arrivando in tribunale, aveva poi aggiunto è tutto assurdo e speriamo che il modello Riace sopravviva. Vi ricordo che tra i reati contestati al sindaco di Riace c'è anche l'associazione per delinquere che però non ha trovato riscontro da parte del giudice per le indagini preliminari nell'applicazione della misura catelare così come richiesto all'accusa. Anzi, lo abbiamo più volte sottolineato già negli ultimi due giorni. Erano ben nove i capi di imputazione e ce n'erano di più gravi rispetto a quelli contestati. La truffa aggravata, per esempio, l'associazione per delinquere appunto, ma il GIP non ha ritenuto corretta l'impostazione della procura che, sappiamo, anche questo sta già per presentare. Lo avrebbe predisposto, l'ha detto ieri il procuratore di Locri d'Alessio Ricorso. Vedremo se ci saranno novità prima della fine di questa edizione del telegiornale, ma ripeto, la linea di difesa del sindaco di Locri è mai preso soldi da alcuno. Immaginiamo, ma possiamo solo immaginarlo, finché non ci saranno fonti ufficiali a dirlo della procura o dell'ufficio del giudice, però immaginiamo che Lucano abbia, proprio perché aveva affermato, non ho nulla da nascondere, tutto quello che so, lo dico, confermerà anche i fatti relativi ai matrimoni per i quali egli stesso si sarebbe adoperato per favorire l'accoglimento delle domande del permesso di soggiorno nei confronti di alcuni immigrati e soprattutto di giovani donne straniere. Il nuovo segretario della Cisle, Tonino Russo, la linea è quella della continuità. Russo proviene dalla segreteria regionale della Ust Cisle e in aula c'erano due ex segretari generali della Calabria, Paolo Tramonti che è stato promosso al Fondo Nazionale della Confartigianato, ma anche Tonino Sbarra, che va preceduto a sua volta Tramonti, entrambi passati ad incarichi romani e superiori. Russo si è appellato alle istituzioni e dalla classe politica perché lavorino sinergicamente insieme al sindacato per risolvere l'emergenza delle emergenze, la enorme richiesta di lavoro della nostra regione. Tonino Russo è il nuovo segretario generale della Cisle Calabria. Russo, che subentra al dimissionario Paolo Tramonti, destinato a ricoprire la vicepresidenza del Fondo Nazionale di Confartigianato, è stato eletto dall'assemblea regionale che si è svolta alla mezzia terme, alla presenza fra gli altri del segretario generale Anna Maria Furlan e del segretario generale aggiunto Luigi Sbarra, altro ex segretario generale della Calabria. Russo lascia il ruolo di segretario generale dell'Ust Cisle di Cosenza e prende il testimone del sindacato cattolico in un momento che egli stesso ha definito di armonia, mentre per quel che riguarda l'agenda non possono esservi dubbi. La priorità è il lavoro ed ovviamente i temi adesso strettamente correlati dagli investimenti alla crescita. Ma Russo ha subito aggiunto che il problema è anche qualitativo. L'offerta è scarsa da molto tempo, ma negli ultimi anni anche assai scadente a causa dell'eccessiva precarizzazione. E' dunque necessario lavorare in sinergia con le istituzioni per attrarre investimenti, sia pubblici che privati, e rilanciare imprese ed economia. Ma il nuovo segretario della Cisle calabrese punta il dito anche contro l'eccesso di assistenza, ovvero quell'interventismo che è servito più per creare effimere sacche di consenso che per soccorrere realmente i calabresi ed il territorio. C'è un grande lavoro da fare. Ci auguriamo in sinergia anche con le istituzioni locali per vedere come da un lato incoraggiare la crescita, che è quello che ci vuole in un territorio come questo, che attiri nuovi investimenti pubblici e privati, quindi con politiche che fanno diventare questo territorio attrattivo finanziamenti di investimenti. Quello che non serve è l'assistenza. L'assistenza, ahimè, è quello che ha governato purtroppo questo territorio per tanti anni e i risultati sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti. Nella sua relazione, in cui ha fatto senza celare l'emozione il bilancio degli anni in cui ha retto le sorti del sindacato, Tramonti ha parlato di una Cisle che ha recitato un ruolo di primo piano sui temi dello sviluppo e della legalità. Ed ha detto che esistono le condizioni per lavorare bene, purché la classe politica e le istituzioni mostrino la necessaria attenzione per cogliere le opportunità esistenti e mettere a frutto le potenzialità della Calabria. Interpellata sulla manovra finanziaria, la Furlan si è mostrata prudente in attesa di leggere il testo definitivo, mentre su una cosa la segretaria generale della Cisle perentoria. Il Paese, a suo giudizio, deve rimanere ancorato all'Europa ed all'Euro perché qualunque ipotesi di abbandono di questa prospettiva si rivelerebbe catastrofica per le famiglie italiane. Credo che vada assolutamente evitato. Per l'Italia è fondamentale stare nell'Europa, stare nell'Euro. Un'Europa che giustamente vogliamo cambiare. Deve essere l'Europa che mette al centro il lavoro e quindi gli investimenti. Lo stesso vale per la politica italiana. La prossima legge finanziaria dovrà assolutamente mettere in evidenza la voglia, la volontà di far crescere il Paese. Quindi investimenti in ricerca, in formazione, in infrastrutture, le cose che servono per crescere. La Guardia di Finanza di Paola ha scoperto una società fantasma nel settore della fabbricazione di porte e finestre in legno che dal 2012 non ha presentato alcuna dichiarazione di redditi pur avendo conseguito ricavi per oltre 250 mila euro e quindi risultava evasore totale. Denunciati l'amministratore ed il rappresentante legale per l'occultamento e la distruzione di documenti contabili, dato questo punibile fino a sei anni di reclusione. Le indagini, fanno notare i finanzieri, sono state particolarmente difficili a causa della parziale o mancata consegna ed esibizione della documentazione contabile. Ma a grado ciò le fiamme gialle hanno ricostruito la reale posizione fiscale, le vendite effettuate, gli utili conseguiti dall'azienda. Fra l'altro è emerso che la società aveva anche avviato un'attività commerciale, la vendita di prodotti per la casa, che mai era stata dichiarata al fisco. Le imposte base sono state calcolate in circa 67 mila euro. I carabinieri forestali hanno sequestrato a Tortora oltre 200 confezioni di prodotti fitosanitari. Il sequestro è stato fatto nell'ambito di controlli che interessano le attività commerciali che vendono proprio questo tipo di prodotti nell'alto tirreno cosentino. I fitosanitari erano in un magazzino ed erano privi delle autorizzazioni previste, autorizzazioni sanitarie. Oltre al sequestro è stata elevata una sanzione amministrativa al proprietario del negozio che avrebbe dovuto smaltirli, come previsto dalla legge. E sarà un'annata qualitativamente molto buona, forse eccezionale, ma le quantità scarseggeranno. Parliamo di olio, Coldiretti lancia l'allarme, anche perché quando l'olio comincia a scarseggiare c'è sempre la grande tentazione, il grande pericolo che vengano importate quantità di olio soprattutto dai paesi nordafricani e che esso poi venga spacciato per olio calabrese. Quindi da un lato il richiamo è ad alzare la sorveglianza, il livello dei controlli, dall'altra anche ai consumatori perché stiano attenti, ma poi si chiede maggiore attenzione in genere per la filiera. Pensate che si stima che la riduzione quest'anno possa essere delle produzioni, della quantità di produzioni, possa essere tra il 40 e il 50%. Il caldo eccessivamente prolungato rischia di mettere in ginocchio l'olivicoltura calabrese. L'allarme è lanciato da Coldiretti Calabria, secondo la quale la campagna appena iniziata sarà certamente difficile per gli olivicoltori della nostra regione. Le stime della campagna olivicola 2018-2019 sono tremende e prevedono un calo della produzione di olio del 40%, con punte di oltre il 50%. Le ragioni di questo crollo sono diverse ma tutte riconducibili alle condizioni climatiche, che hanno permesso l'attacco della mosca, della tignola ed in alcune zone del tripide, che hanno causato la cascola, ovvero la caduta precoce delle olive dagli alberi. Normalmente la produzione media annuale di olio in Calabria è di circa 260.000 tonnellate, con circa il 50% di prodotto biologico, una superficie di circa 190.000 ettari coltivati e 215 milioni di piante, con circa 80.000 aziende ed un forte impatto sociale per la manodopera impiegata, con oltre 15 milioni di giornate lavorative annue. Nella nota di Coldiretti Calabria è detto che la nostra economia olivicola, che è la seconda in Italia in termini produttivi e certamente rappresenta un settore trainante per l'agricoltura calabrese, sarà messa a dura prova. È per questo che Coldiretti chiede che siano attivate le verifiche da parte degli uffici della regione, per avviare il riconoscimento della calamità naturale nelle aree più colpite. Secondo il presidente di Coldiretti Calabria, Pietro Molinaro, al danno economico riscontrato già nelle prime moliture, c'è il forte e concreto rischio che si aggiunga la crescita di importazione di olio extracomunitario, che, dice Molinaro, diventa magicamente olio calabrese ed italiano solo sulla carta. Dunque bisogna evitare che questa pericolosissima macchia d'olio si allarghi e favorisca comportamenti e triangolazioni scorrette che per la loro pervasività assestino un duro colpo all'olivicoltura ed alla valorizzazione del nostro olio, compromettendo la fiducia dei cittadini consumatori. Per questo Coldiretti Calabria sollecita maggiori controlli all'interno della filiera, scaffali compresi, per evitare l'inganno ai consumatori e la beffa agli agricoltori. Sono stati designati gli arbitri per le partite di Serie B della settima, questa è la settima giornata che esiterà tra sabato e domenica, naturalmente, anzi, giocano in giorni diversi nelle nostre due squadre. Il Crotone sarà impegnato nella trasferta di Palermo, il Cosenza se la vedrà col Carpi, anch'esso fuori casa. Carpi-Cosenza, che si gioca sabato pomeriggio alle 15, sarà arbitrata da Pilliteri di Palermo, quindi dopo domani sabato 6 ottobre. Il Crotone giocherà invece il posticipo della domenica alle 21, alla favorita contro il Palermo e l'arbitro sarà Gersini di Genova. Prima di chiudere vi ricordo la notizia di apertura, ovvero le prime indiscrezioni sull'interrogatorio del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, arrestato martedì scorso. Quattro ore è durato il colloquio tra il sindaco di Riace e il giudice per le indagini preliminari di Croce. Lucano ha sostanzialmente sostenuto di non aver mai preso soldi per quello che faceva, ovvero soprattutto nella gestione dei fondi per l'accoglienza agli immigrati, ha sottolineato di non avere approfittato dei fondi che venivano erogati dal Ministero dell'Interno. Mai guadagnato, mai preso soldi a chi voleva darmi, gli ho sempre detto di devolverli in beneficenza e poi ha sottolineato che a Miriaccio i soldi siano stati usati solo per progetti relativi ai migranti, per alleviare sofferenze e per dare opportunità di lavoro e di integrazione a perseguitati o richiedenti asilo. Torneremo naturalmente su questa, come su altre notizie nel corso dell'edizione, in onda alle 19.40. Vi ricordo il nostro sito ufficiale videocalabria.tv e vi ricordo il nostro sito All News. Naturalmente la notizia di maggior rilievo in questo momento è proprio l'interrogatorio di garanzia del sindaco di Riace e poi l'appello perché in Calabria si torni dappertutto all'acqua pubblica nei confronti della regione alla quale viene mossa l'accusa, come vedete, di tergiversare su questo tema. Vi ricordo ancora 19.40 alla prossima edizione di Infostudio. A più tardi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS